Quindi da Luxelv, cittadino di circa 3.000 abitanti, contea del Finnmark, sempre, proseguiamo lungo la E6 e da qui la strada veramente diventa stupenda, direzione Olderfjord. Inutile dire, come vedete, dalle immagini che è la strada che porta fino al Olderfjord, da Luxelv e dopo Olderfjord, verso Oninswag, che corre lungo tutta la costa e tutto il fiordo sulla destra, ha degli scenari incredibili, fantastici, bellissimi, conditi anche da qualche tunnel. What a thousand miles to follow that you talk La 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Inutile dire che sarebbe da fermarsi ad ogni piazzola di sosta ma con un camper e poi con anche la frenesia la voglia di arrivare il prima possibile a Caponordo un po' fa saltare alcuni paesacchi 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 interno. Ci sono, ripeto, scenari da cartolina assoluti. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. . 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